ciao da massimo e benvenuti qui nel covo delle meraviglie in questo mio nuovo video sono qui in poltrona bello comodo un video un po improvvisato ma mi sentivo di farlo perché parliamo di questa serie mitica che è spazio 1999 anni 70 jerry anderson silvia anderson dopo ufo e varano questa serie la base lunare alfa sulla luna praticamente è una base di controllo alle scorie nucleari queste scorie nucleari che provengono dalla terra esplodono fanno sì che diventa un propulsore per la luna che si distacca dalla terra esce fuori dall'orbita e incomincia a vagare nel cosmo e qui arrivano i 48 episodi della della serie la prima serie quella mitica quella cupa quella profonda e la seconda serie presa in mano da friend strainberg se non vado errato come cognome ma non voglio anche dirlo per bene perché voglio dimenticare questa persona che ha stravolto completamente la serie diventando un baraccone per ragazzi con effetti speciali infimi e con alieni improponibili con storie ancora meno e più improponibili insomma una rovina totale da parte di tutti i fan non lo diciamo estremamente l'unica cosa che si può salvare e maia l'aliena e che si trasmuta in uccelli in topi in ragni eccetera del pianeta psycho l'unica cosa che si può salvare lei perché una bellissima donna e anche simpatica purtroppo è andata così si poteva avere 48 episodi bellissimi come separazione come il fantasma su alfa come sole nero forse il più bell'episodio dell'intera saga di spazio 1999 e ne voglio parlare perché vi voglio mettere a conoscenza di due libri che sono usciti un po di tempo fa il primo è di giuseppe turdo per la topse edizioni che è destinazione obbligata alfa guida non ufficiale a spazio 1999 bellissima copertina dove praticamente per la prima volta in italiano la più completa guida alla serie televisiva perché normalmente avevamo libri in inglese ma anche molti siti di informazione però in lingua inglese in italiano mancava qualcosa e ci ha pensato turdo che ha creato un libro di ben oltre 400 pagine ricco pieno pregno di informazioni la prima edizione è del 2015 all'interno troviamo ovviamente la genesi di un colosso televisivo tutti gli episodi diciamo argomentati per cast per trama per curiosità e con interviste al cast martin landau barbara bain catering shell barry morse eccetera eccetera insomma un qualcosa di molto molto concentrato e curioso esempio che abbiamo episodio 1 separazione non so se si vede viene messo bene messo nella prima pagina il cast accreditato e non accreditato la trama le note i commenti del cast che sono la cosa più bella nick tate jerry anderson e poi le considerazioni dell'autore che da possiamo dire anche un giudizio con le stellette bello 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 e poi anche delle curiosità in ogni episodio a questa diciamo questo form questo format si dice così questo form no questo format che ci porta veramente a vedere la puntata e poi anche alla fine andare a curiosare e con queste note sì la cosa bellissima sono i commenti del cast prese da interviste sia video sia anche su carta diciamo anche testimonianze sul set e questo l'intervista è un'idea incredibile che turdo ha avuto perché ci permette di poter entrare proprio non dico in punta dei piedi ma proprio con tutto il corpo dentro la serie fantastico veramente fantastico insomma un libro che vi consiglio vivamente e poi ovviamente non c'è soltanto l'esamine delle due stagioni di spazio ma abbiamo anche gli episodi fuori serie come messaggio d'alfa abbiamo alcune curiosità legati agli attori ai doppiatori insomma tra l'altro anche una parte dedicata agli attori italiani che hanno partecipato agli episodi di spazio e questo è una cosa molto molto carina esempio corso maria guerrini alcune note e giancarlo prete e carla romanelli e gianni cargo il mitico sartana poi ci sono alcune note a margine la prima o la seconda qual è la meglio e poi l'appendice con anche alcuni aspetti tecnici legati proprio al mondo degli alfani le armi le aquile eccetera bellissimo e poi per finire abbiamo anche una sezione con l'autore e le foto con gli attori durante le innumerevoli convention dove ha partecipato comunque si trova ancora destinazione obbligata alfa guida non ufficiale a spazio 1999 assolutamente da avere questa è la quarta di copertina e questa è la postina bellissimo il secondo libro è di palin test palin sesti si palin sesti maia 1999 ovvero i rovesci della seconda stagione e qui vi ho detto già all'inizio andiamo analizzare in maniera veramente particolare la seconda serie di leggo la quarta di copertina raccolta di commenti agrodorci in ordine sparso e assolutamente non ufficiali agli episodi della seconda stagione di spazio la serie che ha diviso il mondo dei fans con le improbabili trasmutazioni di maia la psiconiana raccattata su d'un pianeta morente bellissimo bellissimo e si friend back l'hai combinata bella che in questa seconda stagione faccio vedere che si parte dagli episodi c'è una piccola descrizione e poi abbiamo queste note sparse molto carine curiose anche impresa in giro un po delle degli episodi della seconda serie è un peccato veramente un peccato che la seconda serie abbia avuto questo aspetto spettacolare gli americani volevano questo e purtroppo non ha non ha funzionato assolutamente come vedete c'è molto scritto le uniche foto sono quelle iniziali di ogni episodio che viene analizzato però è un libro assolutamente da avere perché è un divertimento è un divertimento incredibile della sfascello chimico addirittura maia 1999 ovvero i rovesci della seconda stagione a cura di agamennone palinsesti ora mi scuso all'inizio perché sinceramente come vedete non è che si legge molto bene il nome prima edizione aprile 2019 lo potete trovare su su amazon credo e niente due volumi per tutti gli appassionati di spazio 1999 la guida seria su tutta la saga e la guida sarcastica sulla seconda serie di spazio 1999 guardate bellissimo questa foto con questo montaggio tipo ufo spazio 1999 io vi saluto e se il video ti è piaciuto ovviamente metti un like e se non lo hai fatto iscriviti al canale e attiva la campanellina e cosa mi resta di dirti se non conosci spazio un po di flessioni e bisogna farlo perché per punizione perché spazio va assolutamente vista la prima serie assolutamente non va persa assolutamente anzi nei commenti te che l'hai vista dimmi qual è il tuo episodio preferito e poi ti dico anche il mio della prima e della seconda serie ok che la forza sia con te ciao da massimo ciao 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 Grazie a tutti.